Ci sarebbe il pasticcio della transazione per l'emorosità del progetto case dietro la cacciata dell'assessore Lelio De Santis, lo afferma il capogruppo di L'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis. Lelio De Santis non avrebbe inteso dare copertura al debito nella variazione di bilancio. L'abbiamo scoperto fin dall'inizio perché già al momento in cui si è approvato il bilancio, approvato da Cialente con grande enfasi perché si parlava di un'avanza amministrazione, venne fuori questa situazione oscura, grave, molto seria, sta venendo fuori in maniera sempre più seria e grave. Che succede? Succede che la morosità del progetto case pari a circa 9 milioni e oltre deve essere pagata dal comune perché l'Enel cede questo credito a Banca Sistema. Banca Sistema chiede conto al comune del pagamento, il comune naturalmente sbaglia completamente e nella persona di Cialente in particolare perché a giugno di quest'anno Cialente scrive a Banca Sistema, scrive non mi fate pagare gli interessi altrimenti devo portare questo documento in Consiglio Comunale perché si tratterebbe di debiti fuori bilancio. Che accade? Accade che gli interessi la banca glieli fa pagare e Cialente porta all'approvazione una delibera nella quale c'è previsto il pagamento degli interessi, ci sono gli atti documentati, quindi sono documenti ufficiali sia di Banca Sistema che del comune e pertanto accade che Cialente porti di fatto una delibera illegittima se non falsa. Succede quindi che Banca Sistema certifica che gli interessi glieli debbono pagare e lo dice con grande chiarezza e pertanto adesso il buon De Santis che probabilmente di queste cose era a conoscenza, tant'è vero che non vota la famosa delibera di transazione e si tratta di transazione perché avendo rinunciato la banca a una quota a parte ma non a tutti gli interessi si tratta quindi di transazione e si tratta quindi di debiti fuori bilancio. Si tenta di porre rimedio quindi con una variazione di bilancio alla quale probabilmente De Santis aveva detto no? No, De Santis probabilmente la stava predisponendo con molta ma molta accortezza e attenzione e non la portata così come magari voleva Cialente in fretta e furia perché si tratterà probabilmente di una variazione di bilancio di diversi milioni di euro, circa 17 all'interno dei quali ci dovrà essere ciò che non aveva fatto questa amministrazione scaricandola di fatto sulle tasche dei cittadini aquilani un accantonamento per le eventuali somme che non dovessero entrare per pagare queste rate.